C'è un rammarico per non averla portata a casa, ma c'è un pizzico di soddisfazione per la reazione che abbiamo avuto, che nelle ultime partite quando siamo passati in svantaggio non c'è stata. Beh, abbiamo avuto diverse occasioni quando eravamo ancora 0-0 e dovevamo essere più bravi a cercare di passare in vantaggio e invece sono passati prima loro. Sì, posso dare ancora di più, sicuramente, sono abbastanza soddisfatto, è ovvio che se avessimo vinto sarei stato decisamente più contento. L'obbligo no, però noi le affrontiamo tutte per cercare di portare a casa il bottino pieno. Ora la vittoria ci manca e faremo di tutto per ottenerla e per rimanere attaccati alla vetta. Ma oggi forse ho visto un po' più di convinzione, un po' più di fame, un po' più di voglia di rimanere aggrappati alla partita e di portare a casa un punto, ma se fosse durata 5 minuti in più magari ne avremmo portati a casa 3. Sì, è importante appunto la reazione, è importante per il morale e secondo me la strada è questa qui perché prepari le partite in un modo ma non è detto che un episodio o la bravura di un avversario le facciano andare come lei pensate. Quindi dobbiamo essere in grado, essere bravi come parzialmente siamo stati oggi, di rimediare a un errore, a un imprevisto, a una situazione che ci porta in svantaggio.